Buonasera, siamo alla seconda giornata di Mavericks. Allora, alla mia destra abbiamo DM Parrucchieri con... Giulio Marfuggi, Vincenzo Ascione, ok, in viso alla mia sinistra Osarra Scino con... Vittorio Franco, Attanasio Massimo, Luigi Froncillo, Francesco Nogaretto, Angelo Zafano, Raffaele Grazioni. Ok ragazzi, allora la partita è finita con 5-1 per Osarra Scino, sì, sicura. Allora, iniziamo dalla squadra che ha vinto, che ha fatto il gol, Zafano, Franco e Turlo. Chi è? Ah, tu chi sei? Franco, a chi le dedichi il tuo gol? Mia madre e mio fratello Marco. Sì, sì. Ok, poi Turlo, chi è? Non si sta. Tu chi sei? Zafano. A chi lo dedichi? Dico al mio amico che mi critica tanto. Perché lo critichi? Perché non è abbastanza forte ai nostri livelli. Tu cosa pensi, cosa rispondi? Penso che qua siamo tutti professionisti, tutti di livello Real Madrid, Baccellum. Bravi ragazzi, avete finto. Un gol a te, te lo dedichiamo. Grazie. Ok, poi Diemia Parrucchieri, che ha fatto il gol? Assuno, è soddisfatto? Del tuo gol? Sì, è soddisfatto. Poi lo dedico uno alla fotografa, perché abbiamo fatto una foto, ha detto bello, ok. Uno alla mia ragazza, uno a Giorgio, uno a Giovanni e poi uno a Antonella che gli avevo promesso. Va bene, allora un basso alla Maverick, tu vuoi dire qualcosa o tu? Ti ha detto qualcosa? Mi metto il dono di best stop, perché ho fatto una volta ad eccezionare. Ho dovuto girare il 4-1 a Antonella. Va bene, un basso alla Maverick.